Martedì 17 maggio nella chiesa di Sant'Antonino è stato presentato il restauro conservativo eseguito sulla seicentesca tela raffigurante Nostra Signora dei Raccomandati. Il quadro risale al 1668, non se ne conosce l'autore e il committente. Le dimensioni sono imponenti, quasi due metri di larghezza per tre di altezza. Da tempo versava in un indecoroso stato di conservazione ed è stato recuperato grazie all'impegno e dalla perseveranza delle tre confraterne di Santa Croce. Il restauro è stato affidato alla ditta di Maria Luisa Castro Vinci di Militello Rosmarino ed eseguito sotto l'alta sorveglianza della sovrintendenza ai beni culturali e artistici di Enna e l'opera è potuta rientrare presso la chiesa di Sant'Antonino. Presente all'evento un folto pubblico, i tre rappresentanti delle tre confraterne di Santa Croce, padre Santino Paternò per la cura Vescovile di Nicosia. Nel corso della presentazione sono state proiettate alcune immagini significative dell'intervento realizzato e sono stati portati a conoscenza gli esiti delle ricerche condotte sui personaggi raffiguranti nel dipinto, a cominciare dal re bambino Carlo II di Spagna di appena otto anni nel 1668, come si legge appunto in un'iscrizione sotto al suo ritratto. Figura storica travagliata da problemi di salute legati al fatto che era figlio di diretti consanguinei, come era in uso nelle famiglie reali per ragioni dinastiche. Giovanni D'Urso, appassionato di storia locale, è inquadrato con la precisione che lo che non tra distingue l'epoca storica, il XVII secolo in Europa, in Italia e da Nicosia. Un periodo particolarmente florido, quello nicosiano, soprattutto per il proliferare di artisti e botteghe con scultori e pittori che con la loro opera hanno reso ricca d'arte Nicosia. Tra questi è ipotizzabile che vi sia l'autore del quadro che raffigura Nostra Signora dei Raccomandati, ma ad oggi non si hanno certezze in merito.